L'ingresso pedonale al Palageox, le tre linee dei treni, il cantiere del nuovo sottopasso ferroviario di via Bezzecca e il futuro centro commerciale all'ex foro Boario. Non c'è pace in via Peano, a Montà, a ridosso della ferrovia e del centro storico. Ci mancavano i concerti estivi al Palageox che si sentono perfettamente, non richiesti, fino in camera da letto. I residenti hanno incontrato l'organizzazione ZED che per ora dice di non poter far nulla per attutire il suono all'esterno del palazzetto. Più avanti, ma non si sa ancora quando, l'azienda investirà alcune centinaia di migliaia di euro per allestire delle strutture interne in legno che assorbiranno i suoni. Intanto sembra che il Comune abbia accolto la richiesta degli abitanti di via Peano e delle laterali vicine di utilizzare i cortili della adiacente sede APS come passaggio pedonale verso il Palageox durante i concerti. Un po' di tranquillità sembra già possibile. Speriamo di essere ascoltati. Stiamo subendo l'inferno, lo abbiamo già detto un po' di volte, stiamo subendo l'inferno da anni, abbiamo tante infrastrutture attorno, non ne possiamo più e vorremmo avere la nostra strada. Non stiamo chiedendo denaro, non stiamo chiedendo assolutamente nulla se no di essere lasciati in pace. Un impatto acustico, quello del Palageox in estate, che arriva anche ben oltre le carreggiate di Corso Australia. A Chiesa Nuova, dietro il cimitero maggiore, non si riesce più a godersi le sere d'estate. Devi alzare a manetta il televisore intanto se lo vuoi guardare. Io mi sono lamentato molto con i vigili urbani, con mail a destra, a sinistra, ho ricevuto poche risposte. Anche questo fa parte del rispetto ai defunti, credo. Però se faccio una festa privata con la musica alta mi arrivano i vigili.